Lezione 1. Viaggio e check-in. Buongiorno. Ieri mi sono divertito molto a visitare la città. Eh, sembra eccitante. Cosa hai visto? Ho visitato monumenti famosi come la Torre Eiffel e il Museo del Louvre. Wow! Queste sono attrazioni imperdibili a Parigi. Sono così gelosa. È stato fantastico, ma sono così stanco per tutte le passeggiate. Posso immaginarlo. Le visite turistiche possono essere faticose, ma ne vale la pena. Sicuramente. A proposito, è possibile effettuare il check-in anticipato in hotel? Dipende dalle loro politiche. Puoi chiedere alla reception. Va bene. Vado a chiedere informazioni sul check-in anticipato. Grazie. Nessun problema. Goditi il resto del tuo viaggio. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. Vi auguro una buona giornata. Lezione 2. Fitness e resistenza. Ehi. Ho intenzione di fare cardio almeno tre volte a settimana. Ehi. È un grande obiettivo. In che modo ti abbantaggia? Mi aiuta davvero con la mia resistenza e i miei livelli generali di forma fisica. Questo è fantastico. Un allenamento cardio costante può migliorare la resistenza. Esattamente. Che si tratti di correre, andare in bicicletta o nuotare, fa la differenza. È importante trovare attività che ti piacciono per rimanere motivati. Assolutamente. Mi piace mescolarlo con diversi esercizi per mantenerlo interessante. La varietà è fondamentale per prevenire la noia e sfidare il corpo. Inoltre, è un ottimo modo per alleviare lo stress e schiarirmi le idee. L'esercizio fisico ha numerosi benefici mentali e fisici. È vantaggioso per tutti. Non potrei essere più d'accordo. Mi sento pieno di energia e riposato dopo un buon allenamento. Continuate così. La tua dedizione sarà ripagata. Grazie. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Vi auguro una splendida giornata. Lezione 3. Routine mattutina e pendolarismo. Ehi! Mi metto i vestiti e mi preparo per la giornata. Ehi! Questo è il primo passo per una mattinata produttiva. Qual è il prossimo passo? Questo è comodo. Quanto dura di solito il viaggio in autobus? Ci vogliono circa 20 minuti per raggiungere la scuola dalla mia fermata. Non è poi così male. Ti piace il viaggio in autobus? È tutto a posto. Di solito uso quel tempo per ascoltare musica o leggere. È un ottimo modo per sfruttare al meglio i tuoi spostamenti. Sì, mi aiuta a rilassarmi e a prepararmi per la giornata che mi aspetta. È importante iniziare la giornata con una nota positiva. Sicuramente. Trovo che un pendolarismo sereno dia il tono alla giornata. Bene. Ti auguro una buona giornata a scuola. Grazie, lo apprezzo. Ti auguro una splendida giornata anche tu. Lezione 4. Esplorazione dei sapori. Ehi! Preferisco i sapori più delicati, ma sono aperto a provare cose nuove. Ehi! È grandioso, è sempre bene espandere il palato. Cosa hai provato di recente? Ho assaggiato un piatto thailandese speziato per la prima volta ed è stata una bella esperienza. Era sicuramente una combinazione unica di sapori. Mi è piaciuta l'avventura. Provare nuovi cibi può farti conoscere culture e tradizioni diverse. Assolutamente. È come fare un viaggio culinario senza lasciare la tua città. A volte, potresti scoprire dei preferiti inaspettati lungo la strada. Questo è vero. Ho scoperto l'amore per il sushi quando l'ho provato per la prima volta. È fantastico! Ci sono così tanti sapori incredibili che aspettano di essere esplorati. Sono completamente d'accordo. Si tratta di abbracciare nuove esperienze e gusti. Bene! Ecco altre deliziose avventure. Saluti! Grazie per la conversazione. Ti auguro una fantastica giornata! Lezione 5. Incoraggiamento e sostegno. Ciao Anna. Sono un po' nervosa per la mia prossima presentazione. Ciao John. Non preoccuparti. Ce la puoi fare. Ho fiducia in te. Grazie. Le tue parole sono rassicuranti. Apprezzo il tuo sostegno. È importante avere qualcuno che ti incoraggi quando ti senti incerto. Assolutamente. Mi dà la sicurezza necessaria per affrontare qualsiasi sfida. Ricorda che ti sei preparato bene. Abbi fiducia nelle tue capacità. Hai ragione. Mi sono impegnato e ora è il momento di brillare. Credi in te stesso. Sei capace di grandi cose. Lo terrò a mente. Il tuo incoraggiamento significa molto per me. Sono felice di essere qui per te. Abbiamo tutti bisogno di un sistema di supporto. Avere qualcuno come te dalla mia parte fa una grande differenza. Sono felice di essere quella persona per te. Non sei solo in questo. Grazie alla tua fiducia in me mi dà forza. Farò del mio meglio. So che lo farai. Vai fuori e mostra loro di cosa sei capace. Lo farò. Ancora una volta. Grazie per essere un'amica fantastica. In qualsiasi momento. Hai questo. Buona fortuna con la tua presentazione. Grazie. Ti renderò orgoglioso. Abbi cura di te. Lezione 6. I soldi contano. Ciao Anna. Hai visto quei toys? Abbiamo anche banconote da 5 dollari e banconote da 10 dollari. Ciao John. Sì. L'ho notato. È interessante il modo in cui la valuta varia nei diversi paesi. Assolutamente. È affascinante conoscere le diverse denominazioni e il loro valore. In alcuni posti. Hanno persino monete che valgono più di un dollaro. Questo è vero. È conveniente per piccole transazioni. Sono d'accordo. Ti evita di portare in giro un sacco di bollette. Inoltre, è sempre emozionante trovare spiccioli di ricambio in giro. Sì. Soprattutto se trovi una moneta fortunata o rara. È come una piccola caccia al tesoro, vero? Sicuramente. Aggiunge un po' di divertimento alla vita di tutti i giorni. Ed è un promemoria che anche piccole quantità possono sommarsi nel tempo. È una lezione preziosa. È importante gestire le nostre finanze con saggezza. Assolutamente. È bene risparmiare ed essere consapevoli delle nostre abitudini di spesa. Essere fortunati con i soldi è fantastico, ma essere intelligenti con essi è ancora meglio. Ben detto. Sfruttiamo al massimo ciò che abbiamo e facciamo scelte sagge. Concordato. Ecco il successo finanziario e la gestione intelligente del denaro. Saluti. Grazie per la conversazione. Abbi cura di te. Lezione 7. Viaggiatore per la prima volta. Ciao, Anna. Hai qualche consiglio per chi viaggia per la prima volta? Ciao, John. Certo. Per prima cosa. Decidi la destinazione che vuoi esplorare. Questo ha senso. La ricerca di luoghi diversi può essere eccitante. Assolutamente. Cerca informazioni sulla cultura, le attrazioni e le usanze locali. È importante essere rispettosi e consapevoli della cultura locale. Sicuramente. Anche imparare alcune frasi di base nella lingua locale può essere utile. È un'ottima idea. Può rendere più piacevoli le interazioni con l'agente del posto. Quindi, fai una lista di controllo degli articoli essenziali da mettere in valigia per il tuo viaggio. Buon punto. È importante avere tutto ciò di cui hai bisogno durante il viaggio. Non dimenticare di controllare anche le previsioni del tempo per la tua destinazione. Bene. Mettere in valigia un abbigliamento adeguato è fondamentale per un viaggio confortevole. Una volta arrivato, sii aperto a nuove esperienze e prova la cucina locale. Provare nuovi cibi è una delle parti migliori del viaggio, vero? Assolutamente. È un ottimo modo per immergersi nella cultura locale. E non dimenticare di immortalare i ricordi attraverso foto o un diario di viaggio. Tenere un registro delle tue esperienze ti aiuterà a conservarle in seguito. Lo farò sicuramente. È rassicurante avere qualcuno come te che mi dà consigli. Sono lieto di esserti stato utile. Viaggiare può essere un'avventura incredibile. Grazie. La tua guida mi ha reso più entusiasta del mio viaggio. Siete i benvenuti. Vi auguro un viaggio fantastico. Goditi ogni momento. Grazie mille. Ne trarrò il massimo. Abbi cura di te. Lezione 8. Momenti significativi. Ehi Anna, hai mai vissuto momenti significativi durante il viaggio? Ciao John. Assolutamente. Ci sono stati molti momenti memorabili. Sembra intrigante. Puoi condividerne uno con me? Certo. Una volta ho assistito a un tramonto mozzafiato sull'oceano. Wow, deve essere stato uno spettacolo davvero indimenticabile. È stato magico. I colori dipingevano il cielo nei toni dell'arancione e del rosa. La bellezza della natura può lasciare un'impressione duratura, vero? Sicuramente. Mi ha ricordato la vastità e la meraviglia del nostro mondo. Hai avuto incontri con affascinanti animali selvatici durante i tuoi viaggi? Sì. Una volta ho visto da vicino un maestoso elefante nel suo habitat naturale. Deve essere stato sia emozionante che umiliante. Assolutamente. Mi ha fatto apprezzare la diversità della vita sul nostro pianeta. Hai mai partecipato a un festival o a una celebrazione locale? Sì. Ho avuto l'opportunità di partecipare a un vivace carnevale in Brasile. Posso solo immaginare l'energia e l'eccitazione che lo circondano. Era un turbinio di musica, danze e costumi colorati. Conoscere culture diverse deve ampliare la propria prospettiva. Infatti. Ci insegna ad abbracciare la diversità e a celebrare le tradizioni. Hai mai provato un'attività avventurosa adrenalinica? Sì. Ho fatto paracadutismo una volta. L'impeto della caduta libera era indescrivibile. Ci vuole coraggio. Deve essere stata un'incredibile scarica di adrenalina. È stata un'esperienza esaltante che ha spinto i miei limiti. Questi momenti significativi rendono il viaggio così arricchente. Lo fanno. Creano ricordi e storie duraturi da condividere. Grazie per averlo condiviso. È stimolante conoscere le tue esperienze. Siete i benvenuti. È sempre un piacere condividere storie di viaggio. Non vedo l'ora di creare i miei momenti significati di un giorno. Sono sicuro che lo farai. Goditi ogni momento del tuo viaggio. Grazie farò in modo di cogliere ogni opportunità. Abbi cura di te. Abbi cura anche tu. Viaggia in sicurezza e goditi le avventure che ti aspettano. Arrivederci. Finché non ci incontreremo di nuovo, continuate a esplorare. Lezione 9. Parco giochi della natura. Ehi Anna, mi piacciono molto le escursioni e il campeggio. Qualche suggerimento per acquistare attrezzatura per attività all'aperto? Ciao John, è fantastico. Esploriamo il mondo delle avventure all'aria aperta. Da dove iniziare a cercare scarponi da trek inaffidabili? Inizia nei negozi specializzati all'aperto o controlla online recensioni e consigli. Buona idea. Stivali comodi e robusti sono essenziali per lunghe escursioni. Assolutamente. Forniscono supporto e proteggono i piedi dai terreni accidentati. Che ne dici di uno zaino? Qualche caratteristica che dovrei prendere in considerazione? Cerca uno zaino con cinghie regolabili e più scomparti per l'organizzazione. Questo ha senso. Avrò bisogno di spazio sufficiente per la mia attrezzatura e le cose essenziali. Non dimenticate una tenda affidabile per il campeggio. Considera le dimensioni, il peso e la resistenza agli agenti atmosferici. Bene. Una buona tenda può creare o distruggere un'esperienza di campeggio. E non trascurate l'importanza di un sacco a pelo adatto al clima. Mi assicurerò di sceglierne una che mi tenga al caldo e a mio agio. Un altro elemento essenziale è una lampada frontale affidabile per l'illuminazione a mani libere. Questo è un ottimo suggerimento. Sarà utile durante le escursioni notturne. Parlando di notte, un fornello portatile per cucinare i pasti è un must. E non dimenticare gli strati di abbigliamento adeguati per le diverse condizioni meteorologiche. La stratificazione è fondamentale per rimanere comodi e adattarsi alle variazioni di temperatura. Prendi in considerazione l'idea di investire in un filtro per l'acqua di qualità per rimanere idratato durante le tue escursioni. L'idratazione è fondamentale, soprattutto quando si esplorano aree remote. Infine, prepara un kit di pronto soccorso con elementi essenziali come bende e disinfettante. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Mi assicurerò di averne uno a portata di mano. Ottimo! Con l'attrezzatura giusta, sarai pronto a conquistare i grandi spazi aperti. Grazie, la tua esperienza renderà le mie avventure all'aria aperta ancora migliori. Siete i benvenuti. Goditi le tue escursioni e abbraccia la bellezza della natura. Lo farò. Abbi cura di te. Fino alla nostra prossima conversazione. Abbi cura anche tu. Buon viaggio e divertitevi a esplorare. Arrivederci. Tornerò con le storie delle mie avventure all'aperto. Lezione 10. Superare le paure del volo. Ehi Anna, ho paura di volare. Mi puoi aiutare? Certo, cosa ti preoccupa di più? Ciao John. Sarei felice di aiutarti. Dimmi, cosa causa specificamente la tua paura? Beh, ho paura delle turbolenze e ho la sensazione di mancanza di controllo. Capisco. La turbolenza può essere inquietante, ma è una parte normale del volo. Come posso far fronte alle turbolenze e gestire la mia ansia durante i voli? Esercizi di respirazione profonda e concentrazione su qualcosa di calmante possono aiutare. Questo è un buon suggerimento. Cercherò di rimanere rilassato e di distrarre la mia mente. Un'altra cosa da ricordare è che i piloti sono professionisti altamente qualificati. Hai ragione affidarmi alla loro esperienza può darmi tranquillità. Inoltre, informarsi sulle misure di sicurezza in atto può alleviare i timori. Mi assicurerò di fare ricerche e di familiarizzare con la sicurezza aerea. Potrebbe anche aiutare a visualizzare risultati positivi e voli di successo. Il pensiero positivo può certamente fare la differenza nella gestione della paura. Inoltre, considera di parlare con un terapista specializzato nella paura di volare. Cercare una guida professionale è un'ottima idea. Ci darò un'occhiata. Ricorda, milioni di persone volano in sicurezza ogni giorno senza incidenti. Questo è vero. Non dovrei lasciare che la paura mi impedisca di esplorare il mondo. Esattamente. Affrontare la tua paura può portare a esperienze incredibili. Grazie. I tuoi consigli mi danno speranza e motivazione. Siete i benvenuti. Affrontare le paure è un viaggio coraggioso. Farò piccoli passi per superare la mia paura e riacquistare fiducia. Questo è lo spirito. Credo nella tua capacità di vincere la tua paura. Grazie per il supporto. Lo apprezzo davvero. Nessun problema. Sono qui per aiutare. Buon viaggio e buon volo. Grazie. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Abbi cura di te. Abbi cura anche tu. Non vedo l'ora di sapere dei tuoi voli di successo. Arrivederci. Fino alla prossima volta. Resta fantastico e continua a ispirare gli altri. Lezione 11. Yellowstone Wonders Ciao Anna. Hai sentito parlare delle affascinanti funzionalità di Yellowstone? Ciao John. Sì. Yellowstone è nota per i suoi geyser, i vasi di fango e altro ancora. I geyser sono incredibili. Sparano acqua calda in aria, giusto? È corretto. E rompono con acqua calda e vapore in uno spettacolo spettacolare. Ci sono altre caratteristiche uniche a Yellowstone oltre ai geyser? Assolutamente. Yellowstone contiene anche vasi di fango o sorgenti di fango. Pentole di fango? Cosa sono esattamente? I vasi di fango sono pozze di fango gorgogliante causate dalla miscelazione delle sorgenti termali con il terreno. Sembra intrigante. Mi piacerebbe vederli da vicino un giorno. È uno spettacolo straordinario assistere al fango bollente e ai colori unici. Ci sono altre meraviglie naturali a Yellowstone che vale la pena esplorare? Sì, ci sono meravigliose cascate, canyon e fauna selvatica da ammirare. La diversità della natura a Yellowstone è davvero impressionante. Davvero? È un paradiso per gli amanti della natura e delle attività all'aperto. Posso immaginarlo. Devo aggiungere Yellowstone alla mia lista dei desideri di viaggio. È un'ottima idea. È un posto da non perdere. Mi assicurerò di pianificare un viaggio e scoprire le meraviglie di Yellowstone. Non rimarrete delusi. È un posto che lascia un'impressione duratura. Grazie per aver condiviso con me queste affascinanti informazioni. Siete i benvenuti. Sono lieto di potervi far conoscere le meraviglie di Yellowstone. Lo apprezzo. Sono entusiasta di esplorare e scoprire la bellezza in prima persona. Anch'io sono entusiasta per te. Divertiti moltissimo quando verrai a trovarci. Grazie. Creerò ricordi indimenticabili a Yellowstone. Sono sicuro che lo farai. Goditi ogni momento e abbraccia le meraviglie della natura. Arrivederci. Fino alla prossima volta, abbi cura di te e continua a ispirare gli altri. Lezione 12. Esperienze di viaggio memorabili. Ciao Anna. Recentemente sono andata in gita e ho avuto delle esperienze incredibili. Ciao John. È meraviglioso. Sono curioso. Quale posto si è distinto di più? È difficile scegliere, ma le persone in una città in particolare erano incredibilmente accoglienti. Questo è sempre utile e rende il viaggio ancora più piacevole. Assolutamente. È bello sapere che le persone erano cordiali e amichevoli. Crea un'impressione duratura e si aggiunge all'esperienza complessiva. Sicuramente. Sono le interazioni con la gente del posto che rendono i viaggi memorabili. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, oltre alle persone, cos'altro ha reso speciale il tuo viaggio? I paesaggi mozzafiato e le bellezze naturali erano davvero impressionanti. La natura ha un modo per lasciarci a bocca aperta e ricordarci le sue meraviglie. Assolutamente. Lo scenario pittoresco ha reso ogni momento indimenticabile. Hai avuto momenti o attività straordinari durante il tuo viaggio? Ho avuto l'opportunità di provare una cucina locale unica e deliziosa. Esplorare il cibo locale è un modo delizioso per vivere una nuova cultura. Lo è davvero. I sapori e gli aromi erano una festa per i sensi. Qualche piatto o ristorante specifico che consiglieresti? Ho provato questo incredibile piatto di pesce in un piccolo ristorante sul mare. I frutti di mare sembrano una combinazione perfetta. È stata una delizia culinaria e la vista la resa ancora più memorabile. Sembra un momento di viaggio perfetto, gustando del buon cibo con vista. Sicuramente lo era. Sono quei piccoli momenti che restano con te per sempre. Assolutamente. Il viaggio ha un modo per creare ricordi e storie duraturi. Sono molto grata per l'opportunità di vivere esperienze così arricchenti. Custodisci quei ricordi. Ti faranno sempre sorridere. Grazie farò tesoro di quei momenti e pianificherò altre avventure. Siete i benvenuti. Vi attendono molti altri incredibili viaggi. Complimenti per quello. Che possiamo continuare a esplorare e ad abbracciare il mondo. Saluti. Ti auguro infinite nuove scoperte e viaggi gioiosi. Grazie. Fino alla prossima volta, abbi cura di te e continua a ispirare gli altri. Abbi cura anche tu. Buon viaggio e continua a condividere le tue meravigliose storie. Arrivederci. Tornerò con altri racconti emozionanti tratti dai miei viaggi. Lezione 13. Moda e fiducia. Ciao Anna. Ho bisogno dei tuoi consigli di moda. Mia sorella sceglie un vestito per me. Ciao John. Sembra divertente. Quando qualcun altro ti modella, aggiunge eccitazione. Assolutamente. Provo un senso di attesa e curiosità per l'outfit. È interessante come l'abbigliamento possa suscitare emozioni diverse in noi. Infatti. L'abbigliamento giusto può farci sentire sicuri e potenziati. La fiducia gioca un ruolo significativo nel modo in cui ci presentiamo al mondo. Assolutamente. Quando ci sentiamo bene con ciò che indossiamo, aumenta la nostra sicurezza di sé. È incredibile come la moda possa influenzare il nostro umore e la nostra mentalità. Sono d'accordo. È come indossare un'opera d'arte che riflette la nostra personalità. La moda ci permette di esprimerci senza dire una parola. Questo è il bello. È un linguaggio visivo che tutti comprendiamo. Hai un capo di abbigliamento preferito che ti fa sentire sicuro di te? Ho questo abito su misura che mi fa sentire subito elegante. Un abito ben aderente tra su da eleganza e raffinatezza. Assolutamente. È come entrare in una nuova persona quando lo indosso. È affascinante come l'abbigliamento possa trasformare il modo in cui percepiamo noi stessi. Lo è davvero. La moda ha il potere di plasmare la nostra immagine di sé. E quando ci sentiamo bene con noi stessi, si irradia a chi ci circonda. Questa è la magia della moda. Ha la capacità di creare energia positiva. Infatti, non si tratta solo dei vestiti, ma di come ci fanno sentire. Hai ragione la moda è espressione di sé e accettazione della propria unicità. Ed è un viaggio alla scoperta del nostro stile personale lungo la strada. Assolutamente. È un'avventura che ci permette di esplorare diverse estetiche. La moda è una forma d'arte che possiamo indossare e mostrare al mondo. Non potrei essere più d'accordo. È una bella miscela di creatività e fiducia in sé stessi. Abbraccia il tuo stile e lascia che sia un riflesso di chi sei. Grazie. Le tue parole mi ispirano ad abbracciare la moda con fiducia. Lezione 14. Imparare giocando. Ciao Anna. Ho sentito una storia su un modo creativo di apprendere. Ciao John. Sembra intrigante. Di cosa si trattava? Parla di due amiche, Anne e Ellen, che hanno imparato giocando. Imparare giocando può essere un approccio divertente ed efficace. Assolutamente. Un giorno, Anne trascinò Ellen verso una pompa d'acqua. Mi chiedo cosa abbiano fatto con la pompa dell'acqua. Anne indicava l'acqua mentre Ellen pompava il manico. È un modo intelligente per associare le parole alle azioni. Hanno trasformato l'apprendimento in un'esperienza pratica. Le attività interattive rendono l'apprendimento più coinvolgente. E aiuta anche a conservare meglio le informazioni. Anne ed Ellen hanno continuato a esplorare in questo modo? Sì, sono passati ad altri oggetti e azioni. È come creare la propria avventura di apprendimento. Hanno abbracciato la curiosità e hanno usato la loro immaginazione. L'immaginazione è un potente strumento per imparare cose nuove. Assolutamente. Apre le porte a infinite possibilità. Puoi fare un esempio di un'altra attività che hanno svolto? Giocavano con i mattoncini e etichettavano ogni forma. È un ottimo modo per conoscere forme e colori. Hanno combinato la giocosità con elementi educativi. L'apprendimento attraverso il gioco rende il processo piacevole. E incoraggia l'amore per l'apprendimento sin dalla tenera età. È importante coltivare la curiosità e l'amore per l'apprendimento. Infatti, stabilisce una solida base per l'apprendimento permanente. Sono ispirato dall'approccio all'apprendimento di Anne ed Ellen. La loro storia dimostra che l'apprendimento può essere divertente e creativo. Possiamo incorporare elementi di gioco nel nostro apprendimento. Assolutamente. Aggiunge un elemento di gioia e scoperta. Abbracciamo lo spirito del gioco ed esploriamo nuovi modi per imparare. Sono entusiasta di infondere più giocosità nel mio percorso di apprendimento. Questo è lo spirito. L'apprendimento dovrebbe essere un'avventura. Grazie per aver condiviso la gioia di imparare. Lezione 15 Una passeggiata e un piano Ciao Anna, ho un'idea. Facciamo una passeggiata e facciamo un piano. Ciao John, sembra un ottimo modo per combinare attività e produttività. Mi piace fare brainstorming mentre sono circondato dalla natura. Camminare può stimolare la nostra creatività e schiarire le nostre menti. Esattamente. Quindi, iniziamo subito la nostra passeggiata e discutiamo del nostro piano. Sono emozionato. Da dove iniziamo la nostra passeggiata? Esploriamo il parco nelle vicinanze. È sereno e stimolante. Sembra perfetto. La natura suscita sempre nuove idee. Mentre camminiamo, possiamo annotare i nostri pensieri e i nostri obiettivi. È un ottimo modo per organizzare le nostre idee e stabilire una direzione chiara. Sono d'accordo. Annotare le cose aiuta a fare chiarezza. Qual è il piano che vogliamo discutere durante la nostra passeggiata? Penso che dovremmo fare un brainstorming di idee per il nostro prossimo progetto. Questo è un uso produttivo del nostro tempo insieme. Possiamo anche discutere dei nostri obiettivi individuali e di come raggiungerli. È importante sostenerci a vicenda nella nostra crescita personale. Assolutamente. La collaborazione e l'incoraggiamento sono fondamentali. Non vedo l'ora di scambiare idee e approfondimenti. Anch'io. Le nostre passeggiate portano sempre a conversazioni interessanti. Camminare e parlare vanno di pari passo per noi. La natura offre uno sfondo rilassante per le nostre discussioni. E ci dà la possibilità di apprezzare la bellezza che ci circonda. È un'occasione perfetta per ricaricarsi e trovare ispirazione. Sfruttiamo al massimo la nostra passeggiata e pianifichiamo i nostri prossimi passi. Concordato. La nostra passeggiata sarà sia rinfrescante che produttiva. Lezione 16. L'organizzazione di un negozio. Ciao Anna. Hai mai avuto difficoltà a trovare articoli in un negozio? Ciao John. Sì, a volte può essere difficile localizzare le cose. Mi chiedo perché alcuni negozi non siano ben organizzati. Potrebbe essere dovuto a una cattiva pianificazione o alla mancanza di organizzazione. È frustrante quando non riesci a trovare quello che stai cercando. Assolutamente. Fa perdere tempo e può essere scoraggiante. Penso che i negozi dovrebbero dare la priorità a un layout e una segnaletica efficaci. La segnaletica chiara e la disposizione logica facilitano gli acquisti. Migliora anche l'esperienza complessiva di acquisto. Sono d'accordo. È importante creare un'atmosfera piacevole. Un negozio ben organizzato può attirare anche più clienti. Sicuramente. Le persone apprezzano la praticità e l'efficienza. Credo che i proprietari dei negozi dovrebbero considerare le esigenze dei clienti. La comprensione del comportamento dei clienti può guidare la loro organizzazione. Dovrebbero osservare come i clienti navigano nel negozio. In questo modo, possono apportare miglioramenti sulla base di esperienze reali. Ed è fondamentale ascoltare anche il feedback dei clienti. Il feedback dei clienti può fornire informazioni preziose. I negozi dovrebbero adattarsi e apportare modifiche di conseguenza. Il miglioramento continuo è fondamentale per la soddisfazione del cliente. Penso che possiamo anche svolgere un ruolo come clienti. In che modo? Fornendo un feedback costruttivo ai gestori dei negozi. Questo è un ottimo punto. Il nostro feedback può fare la differenza. Si tratta di creare un dialogo tra clienti e negozi. Insieme possiamo contribuire a migliorare le esperienze di acquisto. Assolutamente. Alziamo la voce e sosteniamo il miglioramento. Sono a bordo. Rendiamo i nostri viaggi di shopping più piacevoli. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sull'organizzazione del negozio. Lezione 17 Raccomandazione della ricetta per principianti Ciao Anna, ho iniziato a cucinare da poco e sto cercando una ricetta per principianti. Hai qualche consiglio? Ciao John, è fantastico. Cucinare può essere un hobby divertente e gratificante. Certo, posso condividere con te una semplice ricetta. Che tipo di piatto ti interessa? Vorrei iniziare con qualcosa di facile, magari un piatto di pasta o una zuppa. Cosa ne pensi? La pasta sembra una buona scelta per un principiante. Che ne dite di un classico spaghetti aglio e olio? Sembra delizioso. Di quali ingredienti ho bisogno per quella ricetta? Avrai bisogno di spaghetti, aglio, olio d'oliva, fiocchi di peperoncino, prezzemolo, sale e parmigiano grattugiato. Ottimo, quegli ingredienti sembrano gestibili. Puoi guidarmi nel processo di cottura? Certo, per prima cosa, cuoci gli spaghetti secondo le istruzioni sulla confezione. Quindi, scaldate l'olio d'oliva in una padella e fate soffriggere l'aglio tritato e i fiocchi di peperoncino fino a renderli fragranti. Posso seguirlo. Qual è il passo successivo? Una volta che l'aglio sarà dorato, aggiungete gli spaghetti cotti nella padella e fateli saltare bene nell'olio infuso all'aglio. Condite con sale e guarnite con prezzemolo tritato. Sembra semplice. Per quanto tempo devo cuocerlo? Bastano un paio di minuti per garantire che i sapori si amalgamino bene. Fai attenzione a non cuocere troppo la pasta. Lo terrò d'occhio. Qual è il tocco finale per il piatto? Spruzzare un po' di parmigiano grattugiato sugli spaghetti prima di servire. Aggiunge un bel sapore saporito. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per aver condiviso questa ricetta adatta ai principianti. Siete i benvenuti. Cucinare può essere un'esperienza gratificante e sono lieto di poterti aiutare a iniziare. Apprezzo la tua guida. Ci proverò e ti farò sapere come va a finire. Sarebbe meraviglioso. Ricorda, non aver paura di sperimentare e adattare la ricetta ai tuoi gusti. Lo terrò a mente. Sono entusiasta di intraprendere il mio viaggio culinario. Grazie ancora. Goditi il processo. La cucina può essere uno sbocco creativo. Se avete altre domande, non esitate a chiedere. Lo farò. Grazie per il sostegno e l'incoraggiamento. Mi assicurerò di contattarti se avrò bisogno di ulteriori indicazioni. Grazie.